Bene, eccoci ritornati insieme, pronti per il prossimo collegamento attraverso il quale celebreremo il settantesimo anniversario del Masci, movimento adulti scout cattolici italiani e in questi giorni c'era anche il cinquantesimo anniversario della Gesci. Ce ne parla Lorena Accollettati, segretaria regionale Puglia-Masci, che vedo già nel maxischermo alla mia sinistra. Buongiorno Lorena, ben trovata. Buongiorno a tutti, siamo abbastanza distrutti da queste tre giorni che la regione Puglia-Masci-Puglia ha vissuto da noi, come si può vedere anche dal mio viso, perché sono stati tre giorni intensi di celebrazioni del settantesimo anniversario del Masci, quindi del nostro movimento adulti scout cattolici italiani e insieme abbiamo festeggiato anche 50 anni della Gesci, che è l'associazione giovanile sempre degli scout cattolici italiani. Due grandi feste per due traguardi davvero molto importanti. Ci hai inviato tante foto, mentre ci racconterai quello che è successo in questi giorni, le vedremo. Nel frattempo provo ad invitarti a mettere il telefono in posizione orizzontale, così possiamo vederti anche meglio. Ecco, di perfetto, in realtà sappiamo, e adesso lo vedremo anche attraverso le foto, l'immenso lavoro che è stato fatto in questi giorni, per cui è più un senso di gratitudine quello che abbiamo verso quello che fate, che altro. Non devi assolutamente preoccuparti dei tratti della stanchezza che testimoniano appunto l'impegno e la passione con cui da tanti anni portate avanti questi progetti importanti. Allora, a te per il racconto di quello che è successo in questi giorni. Allora, il 3 venerdì pomeriggio abbiamo festeggiato l'inizio delle celebrazioni del settantesimo sia a Taranto che a Bari. A Taranto con un incontro sulla enciclica della Fratelli Tutti, gestito dalla comunità di Taranto 5 e insieme naturalmente alla comunità del Tarantino, mentre a Bari in contemporanea avevamo un incontro sulla Laudato Si, con la proiezione del film The Letter che appunto parte dall'enciclica della Laudato Si e racconta i disastri ambientali che in questi anni noi umani stiamo portando avanti sul nostro pianeta Terra. Naturalmente è tutto legato al discorso che il Papa Francesco sta facendo su questo problema. L'introduzione è stata fatta da Jean Poglieggi che è un biblista molto bravo, preparato, su tanti temi e soprattutto sulla Laudato Si. Mentre il 3 abbiamo avuto, scusatemi, il 4 a Taranto c'è stata proprio la celebrazione insieme alla Gesci dei 70 anni e 50 anni delle due associazioni con dei laboratori in Piazza Carmine, quindi di fronte alla Chiesa del Carmine, bellissima chiesa, con la partecipazione del sacerdote, anzi Monsignor Marco Gerardo e anche altre comunità del Tarantino che praticamente hanno creato dei laboratori sulla legalità, sulla pace, sul cyberbullismo e poi c'era anche un laboratorio sull'acqua, l'acqua e vita e quindi l'importanza dell'acqua e poi un ultimo laboratorio di competenza nautica. Mentre il 5, ultimo giorno delle celebrazioni a Bari in Piazza Cattedrale, si è svolta la manifestazione con i due presidenti, Agesci e Masci, che ci sono venuti a trovare in città Bari. La partecipazione anche dell'assessore alle politiche sociali del comune di Bari e tanta gente, tanta gente che ci ha veramente onorato della sua presenza e ha vissuto con noi queste due giornate, anzi tre giornate di grande festa. Alla fine abbiamo anche fatto un piccolo concerto scout con tante canzoni della tradizione e più recenti e poi la Santa Messa con taglio di torta finale sia a Taranto che a Bari. Quindi abbiamo mangiato anche, ci siamo deliziati di questa fine classica di un compleanno. Come ogni compleanno che si rispetti è giusto che ci sia anche la torta, Lorena. Sì, se posso spendere, scusami, volevo spendere solo due parole sul nostro dono che vogliamo fare al mondo. Abbiamo intenzione e abbiamo fatto una raccolta fondi in questi giorni, ma continuerà fino a settembre, perché vogliamo donare tre regali al mondo. Uno, il primis, è una culla termica al centro di prima accoglienza di Lampedusa perché il nostro motto di questi 70 anni è più vita alla vita. Quindi per noi regalare una culla termica per aiutare i bambini che si trovano naturalmente, i neonati che arrivano dal mare e senza culla termica hanno difficoltà a sopravvivere, ci è sembrato una cosa non importante ma di più. Poi una falegnameria in Zambia, questo è il secondo progetto che abbiamo, perché donare anche la possibilità di realizzare un progetto di vita senza andare alla ricerca di un viaggio che può portarli in altri posti, non quello della speranza come molti di loro credono quando partono, è importante. Quindi generare vita all'interno del posto dove vivono. E ultimo un piccolo bosco della memoria dove ad Argenta, città di Don Giovanni Minzoni che è stato un sacerdote ucciso dalle squadre fascista prima della seconda guerra mondiale proprio perché lui pensava che l'educazione dei ragazzi andasse oltre questa idea di potere ed era un sacerdote scout fra l'altro. E quindi noi vogliamo ricordarlo con questo giardino di alberi, 21 alberi, 1 per regione, quello della nostra Puglia sarà intitolato, cioè l'albero della Puglia sarà intitolato a Don Tonino Bello. Ho finito il racconto. Grazie Lorena, è stata veramente bella la tua testimonianza, siamo felici di aver potuto condividere attraverso il tuo racconto con voi questi momenti di festa che celebrano un traguardo importante ma anche appunto testimoniano il vostro impegno costante nel mondo come appunto ci ricordavi tu. Ecco ti chiederei prima di salutarci, gli scout compiono questi compleanni così importanti, è un'istituzione ormai che si sta avviando a diventare centenari anche nella realtà del Masci e della Gesci, ma secondo te quanto è ancora importante oggi nell'epoca in cui viviamo essere scout? È importante perché... Ti chiedo solo Lorena, ti chiedo solo la cortesia di tenere il telefono fermo il più possibile, altrimenti ci fai venire in mano di testa stamattina. Hai ragione. Allora, dicevo che l'educazione è importante sia a livello diciamo dei giovani e pertanto l'associazione giovanile è importantissimo perché crea dei cittadini responsabili con la loro presenza sul territorio, sul rispetto della natura, sul rispetto delle persone con cui vivono, quindi servizio al prossimo e tante cose che veramente tutti i giorni poi vivono nella loro quotidianità i ragazzi imparando il metodo scout e quindi i valori dello scautismo, ma non soltanto i ragazzi perché anche noi adulti che abbiamo sia vissuto esperienze giovanili ma anche imparato lo scautismo, conosciuto lo scautismo da adulti, viviamo questa esperienza di servizio, di educazione in comunità perché da noi ci sono e vivono le comunità, ci sono le comunità di appartenenza e quindi ci autoeduchiamo tutti i giorni, ci formiamo alla cittadinanza attiva e al servizio soprattutto del prossimo e dell'ambiente. Grazie, grazie Lorena, grazie di cuore per essere stata con noi stamattina, aver condiviso queste belle immagini, il tempo poi tra l'altro è stato vostro alleato perché abbiamo visto il sole in entrambe le piazze, tanti scout, grandi e piccoli, poi ecco la cosa bella è un po' anche questo passaggio di testimone tra le generazioni più grandi e quelle più piccole e l'importanza appunto di far vivere, rivivere il metodo scout come lo chiamavi tu negli anni perché ci sono tante sfide tra cui quella del cambiamento climatico cui facevi cenno con anche quella laudato sì di cui avete dibattuto in questi giorni e sono le giovani generazioni quelle alle quali rivolgiamo la speranza che tanti problemi che non riusciamo a risolvere noi grandi magari possano essere risolti anche da loro. Bene, allora tanti cari auguri per questi anniversari, Lorena a te, a tutto il mondo scout, noi ci risentiamo presto, non aspettiamo necessariamente il prossimo anniversario qualora ci fossero delle belle notizie da condividere, Padre Pio TV è sempre a vostra disposizione. Grazie mille a voi, sempre per l'accoglienza dei nostri momenti di vita scout vissuti, grazie. Grazie a te Lorena, buon proseguimento di giornata, noi ci fermiamo ancora per qualche istante e poi andiamo verso la volata finale della puntata di oggi di Just Today, a tra poco.